Nell'agenda politica ad ogni livello, dalla nazionale alla locale, le infrastrutture ricoprono un ruolo cardine. Negli ultimi giorni molto si è parlato del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. L'Aquila, dal canto suo, guarda con grande interesse al tema del trasporto su ferro per e dalla capitale. Non è un caso che da tempo esista un comitato, l'Aquila a collegamenti ferroviari veloci, che attraverso tavoli di lavoro e incontri istituzionali si sta spendendo molto per far sì che il capoluogo abruzzese si è ricompreso nella mappatura delle grandi infrastrutture. Una tema che ha incassato l'interesse e l'interessamento del segretario di azione, il senatore Carlo Calenda, al quale nel corso di un incontro all'auditorium del Parco del Castello è stato anche sottoposto un progetto di collegamento veloce l'Aquila-Roma. Siccome io non sono al governo, prendere un impegno non stando al governo sarebbe ridicolo, se non quello di appoggiarlo in Parlamento, come è giusto, anche come l'Aquila si merita. Io ho fatto un giro lungo a piedi per vedere l'Aquila. Poi devo dire che ci sono posti dove è stata fatta un'opera di recupero strepitosa, ma molti posti che sono ancora da recuperare. Quindi il minimo che si merita è l'alta velocità. Non solo le infrastrutture, nell'agenda del pomeriggio aquilano di Carlo Calenda, che all'auditorium del Parco del Castello ha anche presentato il suo libro La libertà che non libera, riscoprire il valore del limite. Cosa significa riscoprire il valore del limite e perché va riscoperto? Perché noi abbiamo pensato negli ultimi 30 anni che l'unica cosa che potevamo ricercare o dovevamo ricercare era una libertà illimitata, la libertà di fare quello che volevamo. E ci siamo dimenticati che le comunità si tengono insieme sui doveri e che in ogni periodo storico una comunità ha avuto dei valori morali di riferimento. E se noi non ci poniamo più neanche come obiettivo la ricerca di ciò che è giusto, non riusciamo ad insegnarlo. Un passaggio, infine, Carlo Calenda lo ha voluto dedicare al percorso di crescita che azione sta portando avanti all'Aquila e in Abruzzo. Noi abbiamo un consigliere comunale, soprattutto abbiamo un deputato, Giulio Sottanelli. Noi cominciamo ad essere sempre più ramificati e presenti, soprattutto con gli amministratori locali che sanno amministrare, che per noi è la cosa più importante. Ciò che manca in Italia è che tutti parlano di destra, sinistra, eccetera, ma nessuno parla di come fare le cose che devono essere fatte. E noi siamo nati proprio come centro riformista per superare il conflitto da destra e sinistra. Prima ho incontrato un signore che mi ha detto Calenda, io la stimo ma sono di destra. Ma che vuol dire? Ho detto, sei d'accordo con quello che dico o non sei d'accordo? Perché sennò continuiamo sempre con questa cosa che non finisce mai. Quello che ci definisce non è quello che facciamo o quello che reputiamo giusto, ma il colore di una bandierina che è sempre più stinto. Grazie a tutti.